Sono tornata a casa verso le tre e mezza e mi hanno detto che non potevo entrare in casa mia e che c'era un ordigno bellico. Sì, siamo esattamente qua di fianco, mi hanno detto non c'è più nessuno in casa, ormai da un'oretta ho detto fatemi andare a vedere, secondo me c'è mio fratello su in casa, alla fine c'era lui a usare il computer in casa ancora, sono andato a prenderlo, siamo scesi e speriamo ci facciano rientrare presto. È successo oggi pomeriggio, verso le tre e mezzo, sono arrivato qua per aprire e poi ci hanno detto di chiudere perché c'erano delle problematiche, aspettavano questi qua da Cremona gli artificieri per risolvere il problema, però adesso ci hanno riavvertito che possiamo stare aperti e quindi verranno nei prossimi giorni. Una bomba c'è però non è pericolosa. Una bomba c'è, non è scoppiata ancora. Sette, in questa palazzina sette famiglie e nelle altre non lo so. Ma che è successo? Sono venuti dentro, vi hanno detto di uscire? Sì, sì, tre carabinieri, tre poliziotti. Che cosa vi hanno detto? Che c'è un ordigno esplosivo che l'hanno trovato lì e quindi per sicurezza di uscire di casa, però non ci hanno detto nel tempo né come né quando. Quindi voi adesso cosa fate? Siete ospitati? No, io sono andata a fare un bel giro in bicicletta e poi dopo ho detto adesso torno a casa. Però non lo so, a questo punto non lo so.